Andiamo, ho visto qualcosa Qua c'è tutto qua, ah c'è qualcosa, cosa mi interessa Sì, questo è molto alto Andiamo alla miniera Aspetta un attimo Buono, non so se bisogna usare combustibile Non lo so Non so se si possono giocare i capitoli Non so niente Non so niente Quindi in pratica devo uccidere Evelyn, ma Evelyn è anche di carne e ossa Ma che cazzo è Ma... Aspetta Non ne ho mica presa Ma quante ce ne sono? Ah, c'è un'altra volta qua che parla La bomba a distanza Cazzo Perché ci avrei lanciato granata, ma... Ma questa è questa cosa, che cazzo? Ma ascolta, ma se io tipo questo lo metto Sì, ma... Sì, ma... Se devo solo esaminarla Ascoltami, eh Stai sto il cazzo di coltello, dai E basta C'ho 40.000 munizioni, poi ho salvato Eh, ma non ce ne so Sì, ma non ce ne so Sì, ma non ce ne so Per andare tutto il spazio Ah, beh Mò vado in miniera Ah, beh Adesso andiamo in miniera fanculo fanculo c'è qualcosa qui lodo chimico forti cartuccio fucile non mi serve perché non sono un colpo fucile ancora per un massimo di 6 colpi signore e signore vediamo se ho fatto la scelta giusta vediamo se ho fatto le scelte giuste ascolta di questo qua ma le cose neutrale che cazzo sei buono lo so finisce più sto gioco dura cazzo ascolta per un benessere sereno ascolta per un benessere sereno ascolta per un benessere sereno per un benessere sereno che cosa è che cosa si si fuck eeeh, dovevo lasse e che due meleghini che vuoi fare mamma mia mamma mia mi sono fermato proprio per il pelo ma dopo io posso risalire volendo beh mi fa piacere questa cosa e adesso dove va qua non posso andare c'è qualcosa col sotto munizioni mag che non ho neanche la pistola però noi la prendiamo questa si che la prendiamo la parca poter la stessa c'è oh tu mamma Ma io dico Ma porca di quella putta Ma mi avete rotto la minchia Ma che due coglioni Ma che cazzo Ma che siete una condanna a morte Eeeh Eeeh Scartavetrati i maroni Finito Mi siete ritirati A posto Eeeh Eeeh va bene con le munizioni Ho anche una vita Che vorrebbe salvare Certo è che però non mettere la cosa che puoi romperle con i calci Perché uno dice coltello non luce più bene Però quella puttana troia non l'ho vista Dai andiamo via Andiamo via Ah pure Pure Che sta da qua dentro che cazzo è Adesso ho compito Ascolta con un attimo Fammi vedere un attimo Posso combinare qualcosa Ok Ok Cazzo C'è una La volontà Vengo Fluido è possibile Che cazzo posso creare Extra Noi qua Stavo qua Che niente Però C'è già due spazi vuoti Eeeh Continuiamoci Adesso possiamo riuscire a rischettare C'è un po' la tua Tra le persone In qualsiasi mia Ancora sospesa Tra il mondo Fatato di Evi La realtà A volte diventa molto violenta Dopo di richiedere C'è un po' la carta C'è un po' la mia Credo che è mia Sì la sua mammina Questa mia giornata C'è un po' la mia C'è un po' la mia 206 Poi l'idea Sì Sì A proposito Io vi non sembra essere in gran forma La sua pelle si sta riempiendo Di rupi i capelli Si stanno Ingrigendo Era qualcosa di previsto Sembra che stia metterato Tutto da un corpo Boh Non so cosa dire Non so davvero cosa dire Non mi fa leggere niente Qua Infezione report Qua è port Come parla Resident Evil Che cazzo è quello Quella roba lì Qua è la Secondo me Non ero Né con la famiglia Abigail E papà Vomita L'accesso Calcificazione Cellulare C'è bloccato Cosa c'è qua Target Acquired Non c'è niente Adesso Vevo vedere Che lo metto Arrivano a tutte le parti Io combatto Perché giusto Combatto E Bene Non voglio dire Mi spiace Tollecetto Lo vuoi Non c'è scritto niente E dopo C'è stato Infezione E si manifesta Come una bambina Desiderosa D'attenzione A una A una C'è la base operativa Buono A un'altra D'acqua D'acqua E qua mettiamo guarda succede qualcosa qua guarda un attimo in pausa continuiamo molezioni pistola 29 e 30 2 32 ma se io tipo metto questo qua ma c'è una 60 60 più 10 è 70 eh va bene di qua giusto si che prima lo dirà attenzione potenziate pistola non 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 Allontaniamoci come sempre dalla tv E' finita la cantina Ah porca troia Ma vaffanculo ma muori tu Buttana Ma si sta spaccando la cosa Ma vaffanculo Ma vaffanculo Minchia che mira di merda Ascolta ma tu Guarda quante munizioni sprecate Grandissima Sono stato un po' sciocco Perché potevo usare questo Ma mica arrivano da dietro Ma che cazzo ho preso Le cartucce per il fucile Ma che cazzo mi sa Ma che cazzo mi sa Sì perché c'era qua Qua Mocca mamma Ma che cazzo che cazzo Mocca mamma Se può sentire Sì Credo Dopo v'immagine grande eh rile rile mamma mia via ma che sei scemo oi stavure stavure stiavo zaronico via, eeeh, tutta la famiglia dopo voglio fare un gioco in terza persona perchè qua sempre prima persona sto facendo direi che basta come tiene l'arma? guarda la tele va c'è praticamente no no ma che è sesso? ma che è sesso? manchino su 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 Doi 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 Doii ma porci puttana quella troga infame maledetta Silenzio, silenzio Silenzio, silenzio Non è un po' la verità qua Ah Oh, questo ce lo dirò Ah, corre, sostanzialmente Non è un po' la verità Ma secondo me Il gameplay non te lo permetto Cioè nel senso Appena vedono che tu stai salendo Lasciano quello che stanno facendo O almeno credo Eh, che due palle M'è spaccata la flange Ma c'è una bambina Mi butta giù Oh, ma, è finito il gioco Oh, ma c'è un po' la verità Basta 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 nemici Basta tutto Basta 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 Sì, io c'ho passato la mezza Your fucking mother Ma Sì, io c'ho passato la bambina Buonasera Questa è la mia casa Mappa Mappa mistero Mappa mistero Salviamo Ma c'è qualcosa che fa rumore qua Vabbè Nooo 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 No, cos'è quella sedia a rotelle No, la vecchia La vecchia Nooo La vecchia Nooo Mappa Ah, questa qua è la zona della demo Sono di nuovo nella casa Porca Sono di nuovo nella casa Cosa Il 001 Nooo E' lei E' lei La bambina Nooo Ua, le scale dell'inizio Dove il mio si trasforma Ma E' lei Nooo 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 E' lei la bambina E' lei la bambina Ma Vaffan Aspetta Piano piano qua qua Pia Sì Ecco Eccola Escreen si ho capito perché e perché la vedi non lo so wow finisce dove tutta era iniziata bello mi piace che poi sta parte della casa non ho capito quale sia io adesso con le armi bam bello cacchio mi piace che finisce così ma l'ho messa il letto davanti la casetta ma stai zitta tranquilla ma questa volta hai esagerato ha un cazzo di male non vuole essere il mio paparino allora può morire questa volta è il turno della mamma di ucciderti hai capito cioè praticamente lei quando faceva queste cose qua vedeva Evelyn ma perché ancora stile ricordo ma che cazzo ride tossica anche se vedo qualcuno inizio a sparare alla cieca devo andare di qua se vado su aiuto vuoi torniamo il giorno devo un attimo andare a venire sperando che non compaio così devo fare tipo sei cosa con Evelyn che ti seguivano presto diventerai uno di noi e forse convincerai a comportarti bene non sto scherzando no allontanalo da me oh ma ti sembra normale fare tutti sti versi ma che cazzo no vabbè ma così non si fa ma che stiamo a scherzando ma che stiamo a scherzando non sto capendo che cavolo devo fare cosa devo fare non sto capendo ma ho messo l1 guardia in tutto il gioco fattene uno potrebbe dire semplicistico però tutto il gioco non è stato per niente semplice quindi e ficcagli sta cazzo di sirina in golo vai ma secondo me è la vecchia sai vuoi vedere hai visto lo sapevo ce lo sapevo se era capito l'ultimo una grandissima tossica che ha detto sono un forno mamma mia che cos'è ma devo combattere eh dai eh che palle c'è afficcata la sininga ma che c'è 300 ma che c'è è un forno ma non è un forno ho mangiato, son morto li provo ma spara, non fa niente non puoi fuggire, continui ad attaccare e cerca di evitare i suoi attacchi è possibile attaccare a prima distanza i suoi nemici quando mi rafferrarsi le cartucce neurali bloccano il temporamento vabbè vabbè eh adesso batto sto boss, la vecchia penso sia finito qui si addio, ma la serina non ha fatto un cazzo la vecchia va bene 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 oh spariamo tutti i colpi cosa devo dire va bene va bene va bene va bene va bene è ora ma è stato finito Tipo come un source che esce scritto sotto la vita La barra della vita Ma ho finito qua Mamma mia che ci sta là Eh lo so Ma perché non ti muovi? Ma tu scema non si alzi Ma tipo a me d'ausa Carica l'arma Mamma mia che bolo Bestia non si è fatto niente Appee Cos'è quell'arma? Dai ita tanto ormai stai crepando Unknown Prendici cazzo Albert come Albert Wesker Dai Ma che ha le mani stai crepando Ah ma non ti muovi? Ah si è morta? Ma dai Cazzo di straccio tutto Ma che razza di esperimento è? Quindi erano tutti controllati dalla vecchia Finito qua? Finito qua Finito qua Finito la notte Ciao Ciao Metto chi sei? Come soliti i militari arrivano sempre dopo Si prendono in merito e distrucono tutto Chi sei tu? Sono Redfield Chris Siete esatti? Cazzo è diversissimo Chris Redfield Mamma mia È mia Mia l'ha presa Chris Redfield Gente Allora eccola qua Mia Ce l'hai fatta Io ti Chris Redfield Davvero? Tutto bene Quel che finisce bene Dicono che è chiusa una porta Ci apre un portone Se ne apre un'altra Beh Stanotte se ne è chiusa una Senti Renato Novara È stata una lunga notte E non solo per me Ted Mosby Io e Mia non siamo le sole vittime Ma anche i Baker È colpa di quella cosa Evelyn Che li ha resi così Ma ora Evelyn è morta La caballeria è venuta a ripulire il tutto Ma la baralla è diventata buona Avevo accettato la scomparsa di Mia Ma ora è tornata E vuole ricominciare Lasciandoci tutto alle spalle Forse è ora di aprire questa nuova porta Verso il nuovo mondo Finito Bene Come dicono tutti gli youtuber Ditemi cosa ne pensate Non lasciate nessun like Ma Condividete Attivate la campanella Che vi suonerà il postino E Io Prima o poi Tornerò Con la coda dell'occhio Se vedete qualcuno con la coda dell'occhio Quello sono io Cheni Ecco Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.